Allora abbiamo il numero 41, Hermes Quadri che ha vinto il Rimini Comics e porta Teoden dal Signore degli Anelli. Forma la lesina, Hermes! Forma la lesina! E vince davanti! E vince davanti! E vince davanti! E vince davanti! Un applauso gigante! Io stavo per armarmi e seguirlo in battaglia. Io stavo per lanciare tutto e andavo anch'io così a mani nudie. Ti chiamavamo coi microfoni ormai. Hermes, per dire, dici qualcosa di questo coso. Scusa, guardalo in faccia. Ma aspetta, sei ancora in mood! Ho paura! Diamogli dieci secondi che sennò qua fa dei morti. Dici qualcosa di questo se te lo senti. Hermes, grazie a tutti prima di tutto. È un personaggio che sento un po' nel cuore perché nella saga è un re veramente grande in quello che fa e purtroppo hanno deciso però di eliminarlo in una maniera un po' troppo facilona secondo me. Del resto è fantastico tutto il film. Io mi diverto tantissimo, mi gaso. Spero che vi siete divertiti con me, ecco. Si sono gasati anche voi. Direi che li hai gasati abbastanza, direi. Fate un applauso al nostro re.